Forza ragazzi eccoci qua ve l'avevo detto che sarebbe uscito un po' in ritardo il video del giorno dopo di Sampdoria Spezia perché volevo aspettare ovviamente i sorteggi di Conference League per i preliminari usciti qualche minuto fa la Fiorentina sicuramente non ha pescato la migliore che c'era nel gruppo mettiamola così ragazzi Comunque prima di andare a parlare del sorteggio di Conference League qualche parola ovviamente sulla partita di ieri tra Sampdoria e Fiorentina invitandovi come sempre a seguire gli amici di Space Viola qua sotto il link in descrizione La Fiorentina quarta vittoria consecutiva altro clean sheet dopo la Conference League italiano molto contento cominciamo a piano piano a rodarci come si suol dire cominciamo a maturare a crescere a migliorarci Era importante una classifica che non ci rispecchiava secondo me non rispecchia ancora la classifica che abbiamo però ovviamente ragazzi arrivando comunque all'undicesimo posto è una classifica che un pochino ti permette di respirare ma non di abbassare la guardia Anche perché dopo domani c'è comunque la serenità quindi altri tre punti obbligatori da portare in dote a questa classifica Ieri ovviamente c'è stata una grande partita da parte di tutti ma sicuramente uno dei più rinati è stato Jack Bonaventura Devo dire che italiano variando dal 4-3-3 al 4-2-3-1 riesce un attimino a dare a questa squadra un pochino più di movimento mettere dei giocatori un pochino più al loro agio Per esempio in questa formazione tipo ci sarebbe bene Bonaventura nel suo nuovo ruolo e ovviamente anche Barak Che ieri non è stato della partita però devo dire che è una formazione che sembra dare un pochino più di mobilità Sembrano un attimino un pochino più al loro agio Poi devo dire che ieri rinunciando anche un po' al possesso palla perché la Fiorentina è tra le squadre europee che fa il maggior possesso palla Però si sta piano piano rinunciando a comandare in maniera sterile la partita Dando ovviamente il pallone ogni tanto anche agli avversari però cercando ovviamente di difendersi e poi ripartire Il gol, il primo gol, un'azione fantastica da parte della Fiorentina su quel pallone recuperato La cavalcata di Kwamei insomma l'1-2 tra Icone e Dodò E poi questo pallone che va a finire nel mezzo con bravissimo Giacomo Bonaventura inserirsi è un'apoteosi dell'azione tipo di una qualsiasi squadra di calcio Quindi ieri la Fiorentina il primo gol è fantastico Detto questo sono contento del fatto che l'italiano si sia un attimino ravveduto anche nel suo modo di vedere il calcio e di mettere in campo la squadra Poi se lo zoccolo dura il 4-3-3 lo abbiamo capito e ok Anche se io ripeto secondo me il 4-3-3 è un punto di partenza ma non può essere un punto d'arrivo Anche perché i numeri dimostrano quello Non voglio parlare del rigore Credo che ieri l'arbitro abbia forse perso un po' il lume della ragione Il rigore magari non era tanto per il fallo fatto dal portiere ma più che altro forse del giocatore da Sampdoria Quindi forse il rigore era da confermare lo stesso però alla fin fine hai vinto 2-0 prendiamola così ragazzi Tra l'altro devo dire che mi sembra una squadra che piano piano si stia anche ritrovando tra di loro Non so ho avuto questa sensazione ho visto una squadra ieri che ha ragionato da squadra e non tanto da singolo Un pochino meno bella un pochino forse più brutta anche nel giocare semplice Però una squadra che è andata a lottare sulle seconde palle sui contrasti Cioè non lasciava niente al caso è che questa è un po' la Fiorentina che ci piace I voti, i voti, il pagellone ovviamente di ieri, Terracciano inoperoso A parte quella cosa, cioè ai nostri portieri l'Igarba sta fuori dai pali Talmente tanto fuori dai pali che io quella lì vi ho detto per un attimo Se non ci fosse stata la Varo, quello che volete, secondo me avrebbero buttato fuori il portiere Detto questo, insomma a parte quell'uscita avventurosa un po' così Che ci ha lasciato un po' tutti con gli occhi spalancati così Devo dire un bel 6, non glielo lega nessuno uno spettatore ieri Dodò soffre un pochino a Ugello, devo dire la verità Lo soffre un po' però secondo me la partita di Dodò è di spessore, 6 e mezzo Milenkovic si prende un 7 perché ovviamente autore del gol Concede il bis dopo lo Spezia, bisogna dire la verità Quindi dopo lo Spezia ancora in gol Milenkovic che sigla il punteggio sul 2-0 I compagni di reparto tra Quarta e Igor ovviamente si prendono entrambi la più la sufficienza Quarta un punticino in più che secondo me non ha per niente demeritato Birak anche lui 6 e mezzo, tante spinte ma anche buona copertura Bisogna essere onesti A centrocampo a sorpresa non c'è stato Amarabat da più un minuto, neanche Barak Abbiamo avuto ovviamente Bonaventura autore di un gol che ha chiuso un'azione fantastica Ma devo dire Bonaventura si prende un 7 e mezzo perché ieri ha giocato una partita molto di spessore Bravo anche Duncan, mi è piaciuto anche l'apporto di Duncan in mezzo al campo 6 e mezzo, muscolarità in questo centrocampio importante Mandragola, sufficienza, non vado oltre la sufficienza Mandragola ogni tanto, non lo so Secondo me è quel giocatore che potrebbe fare qualcosina di più però difficilmente lo fa Lo vedo sotto questo punto di vista La davanti ovviamente Jovic per me non è sufficiente Perché credo che, dicono, aveva un problemino al polpaccio Non l'ho visto molto sufficiente Mi è piaciuto molto di più Cabral che si prende invece la sufficienza Jovic sta sotto il 6 Qua me, nonostante forse una partita meno da protagonista Però c'è sempre stato là davanti 6 e mezzo Mentre dall'altro lato Iconet, a me è piaciuto Iconet A me è piaciuto molto, anche lui si prende un 6 e mezzo Lo vedo un pochino più in partita, un pochino più spigliato Per quanto riguarda invece Saponara è tutti subentrati ovviamente Poco minutaggio, a parte Amrabat Che comunque gli do un bel 6 perché ha aiutato la manovra A coprire più che altro questo centrocampio E a portarsi a casa poi il 2-0 finale I tre punti importantissimi Questi sono i miei pagelloni Per quanto riguarda l'italiano ovviamente 6 e mezzo Perché ovviamente quando si vince vanno premiati tutti Ieri la Frentina ha vinto di carattere Ha vinto proponendo un gioco leggermente diverso Però proponendo un gioco assiduo Cercando sempre di mangiare l'avversario E è stata in grado di soffrire al momento in cui ce n'era bisogno Quindi è una grande prova di maturità Ora veramente continuiamo anche con la Serenitana mercoledì Fatta questa prima parte Per quanto riguarda ieri Parliamo di questo sorteggio di Conference League Io vi dico la verità ragazzi Avrei sperato il Karabag tutta la vita O l'Ik Palanarca All'Ik Palanarca l'abbiamo già affrontato Secondo me il campionato dell'Azerbaijan non è così Cioè voglio dire anche se la trasferta sarebbe stata difficile Molti mi hanno scritto la trasferta è difficile a Karabag Per come poi viene tutto concentrato In un mese come febbraio Posto ovviamente mondiale Quindi anche lì vedremo come la squadra si ritroverà Tutte le squadre come si ritroveranno Avrei preferito il Karabag Oppure l'Ik Palanarca Sicuramente non lo Sporting Braga Che poi è l'avversario della Fiorentina Non lo Sporting Braga ragazzi Perché penso che lo Sporting Braga Sicuramente tra tutte quelle che ti potevano capitare È quella forse un pochino più di prestigio Quella un pochino che ti può realmente mettere in difficoltà Poi ripeto rispetto per tutti Paura di nessuno Cioè è andata così La fortuna forse l'hai isolita ai gironi Gironi che avresti probabilmente dovuto annientare e vincere Però ti tocca lo Sporting Braga È un bel banco di prova Sarà un grande prova di maturità Abbiamo la fortuna di essere testa di serie Quindi l'andata andremo in casa del Braga E al ritorno giocheremo tra le Muramica Ovviamente questo è un vantaggio Perché se hai bisogno di ribaltare il risultato Te lo puoi permettere in casa Sicuramente non tanto fuori casa Ma sicuramente dovremmo andare lì a fare una trasferta di spessore Una trasferta difficile Perché secondo me queste squadre adesso In questa fase vogliono tutti passare E tutti a questo punto vogliono andare in fondo Perché se la Conference League ha detta di Tare È la coppa dei perdenti Il torneo dei perdenti La Lazio c'è dentro E poi Tare ha detto Vabbè dobbiamo giocarla, onorarla È comunque un trofeo Quindi sono tutti bravi a dire quando sono fuori Ma sì, chi se ne frega della Conference Poi quando ci sei dentro la vuoi vincere La vuoi giocare È un po' il discorso secondo me che ho sempre fatto Io preferisco quest'anno vincere la Conference E perdere qualcosa in campionato Ovviamente non retrocedere Ma perdere qualcosa in campionato Perché preferisco portare a casa un trofeo E prendermi il pass dell'Europa League Attraverso il trofeo della Conference Anche perché comunque il campionato è compromesso Più del settimo posto non ci vai Quindi voglio dire Concentriamoci sulla Coppa È una cosa importante Arriva a febbraio Questo turno preliminare Questi playoff Quindi ovviamente non sarà la Fiorentina di questo momento Sarà una Fiorentina post mondiale Una Fiorentina che avrà ripreso A fare una preparazione Sarà una Fiorentina diversa Forse un qualche giocatore in più Forse un qualche giocatore in meno Però devo dire La Conference ora Secondo me si fa bella Secondo me ci sono anche squadre interessanti e belle Quando si gioca in Europa È sempre bello giocare in Europa Forse i gironi ci hanno un po' tolto quella magia Comunque le squadre che abbiamo affrontato Tolto il Basak Sehir Le altre erano squadre di basso livello Adesso invece i giochi si fanno interessanti Si fanno duri Il Braga è sicuramente una Insieme all'Udo Goretz Insieme allo Sheriff Tiraspol E al Transport E mettiamoci anche il Bodo Glimt Anche se molti hanno detto che non è più la squadra Che ha vinto 6-1 con la Roma Era una delle squadre peggio da sorteggiare Paradossalmente erano due O la Cappalanarca O il Carabag Che tutti probabilmente avrebbero voluto prendere Anch'io onestamente Però è capitato lo sport in Braga Quindi va bene così La Fiorentina avrà un bel turno preliminare Andrà affrontato con la massima attenzione La Fiorentina secondo me parte avvantaggiata In quanto secondo me Lazio e Fiorentina In questo momento sono È vero Le due squadre che sull'organico sono le favorite Tra virgolette A portarsi più avanti possibile In questo campionato europeo In questa Conference League Però non vanno sottovalutati gli avversari Perché ogni squadra ha dimostrato Anche nei gironi Che ci vuole provare Che nonostante tutto Nonostante le classi che può avere in campionato In Europa le squadre si trasformano E quindi la Fiorentina dovrà farsi trovare pronta Ragazzi ci vediamo domani Ovviamente per il giorno prima Di Fiorentina Serenitana Che chiuderà Per quanto riguarda il campionato Giocato a Firenze Poi la trasferta a Milano E poi sarà pausa Mondiale Che noi italiani Vivremo da spettatori Forza Viola Grazie a tutti